Ciao a tutti e benvenuti nella seconda parte del video dedicata alla sciarpettina Horizon. Ci eravamo lasciati alla riga numero 8 e stavamo continuando. Continuiamo sempre come nella parte iniziale, come nella parte numero 1 del video. Qui andiamo a fare 4 catenelle più 1. Qui dove ho questo attacco con la magliettina alta vado a fare una magliettina alta, una seconda magliettina alta, una catenella. Di nuovo un'altra magliettina alta e una seconda magliettina alta. Questa era una delle concatenazioni che abbiamo incontrato in questa sciarpetta. Qui invece abbiamo la struttura che abbiamo appena realizzato. Nel mezzo vado a fare una magliettina alta, una catenella, due catenelle scusatemi, e poi un'altra magliettina alta. Adesso ci spostiamo e rincontriamo sotto, nella magliettina sotto, la concatenazione che abbiamo appena fatto. Quindi cosa vado a fare? Maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta. Quindi che cosa sto facendo? Fondamentalmente io sto andando ad alternare queste due concatenazioni assieme. Continuo sempre in questa maniera. In questo caso sono andata nuovamente ad alternare maglia alta, catenella, maglia alta. E poi invece adesso lo rincontrerò con la doppia. Se voi controllate, potete vedere che non nella riga sotto, ma quella ancora sotto, il pattern combacia. E quindi potete utilizzarlo come riferimento per non sbagliare le magliettine o non sbagliare il pattern. Anche perché, come avevo detto nel video precedente, noi andiamo avanti e rincontriamo le medesime righe. Cioè, non le medesime, però le rincontriamo a livello di pattern durante la creazione della nostra sciarpettina. E quindi sono un ottimo punto di riferimento. Quando ci troviamo nella parte di mezzo, andiamo a fare, insomma, non qualcosa di diverso, ma qualcosa che richiede un pochettino più di accortezza. Io qui sono andata a fare questa costruzione in maglia alta, doppia catenella, maglia alta. Nella medesima parte, nella medesima magliettina, dopo che ho fatto l'altra attaccatura, vado ad attaccare un'altra magliettina alta. attenzione, poi quando mi vado a spostare vado a rifare la medesima cosa e attacco direttamente due maglie alte. E una volta che supero il mezzo, tutta l'altra parte di riga si va a ripetere proprio come prima. Continuo con la mia costruzione, sempre alternando i due pattern, quello con la doppia maglia alta e quello con la maglia alta singola. Allora? Catenella, dopo le due magliettine alte, vado qui ad attaccare una maglia alta doppia nella prima magliettina vicino alla parte sopra per terminare la riga e così finisco la riga numero 8. Andiamo a vedere adesso la riga numero 9. Pure questa riga qui comincia sempre con 4 catenelle più 1. Vado a riportare questo pattern, maglia alta, catenella, maglia alta, maglia alta, mi muovo seguendo questa costruzione, maglia alta, catenella, catenella, maglia alta e vado avanti fino alla metà fondamentalmente della mia riga 9. Vi faccio vedere un attimino questa concatenazione così non vi potete sbagliare, maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta, sempre alternata. Vedete, combacia sempre con quella sotto. E io qui sono andata a lavorare fino alla parte in mezzo perché, insomma, dovevo sempre ripetere lo stesso pattern e ora arriviamo alla parte in mezzo. Andiamo a vedere che cosa andiamo a fare qui. Andiamo a fare una magliettina alta attaccata direttamente al centro, una seconda magliettina alta, andiamo ad aggiungere una catenella, andiamo ad aggiungere una maglia alta, andiamo ad aggiungere una seconda maglia alta, in questo modo, andiamo ad aggiungere una catenella, qui, vicino, o no, scusate, vado ad aggiungere una magliettina alta, una magliettina alta doppia nel mezzo, nella catenella, nella magliettina del mezzo, infatti sono andata all'interno della catenella, se ci avete fatto caso. Poi vado ad aggiungere due magliettine alte, catenella e altre magliettine alte. E a questo punto io proseguo con il pattern che abbiamo realizzato finora, il medesimo con cui ho cominciato la riga numero 9. Quindi che cosa è successo nel mezzo? Io ho riseguito sempre due maglie alte, catenelle e due maglie alte, maglia alta doppia precisamente nel mezzo, ok? E poi sono ritornata indietro sempre con le mie magliettine alte. A questo punto vado avanti e termino la riga numero 9. Vi sono lasciata qui l'ultimo pezzettino della riga 9, vi faccio vedere che cosa vado a fare. Magliettina alta, sempre tenendo il conto di lasciare due catenelle sotto, vado a fare due catenelle sopra. Nella medesima ci metto un'altra magliettina alta. Poi nell'ultima fila di catenelle vado ad infilare una magliettina alta, una seconda magliettina alta, catenella, di nuovo magliettina alta e poi magliettina alta doppia per eguagliare le quattro catenelle che ho fatto prima. Chi ho fatto prima? Chi ho fatto inizio riga? Vedete, fondamentalmente stiamo ripetendo i pattern che abbiamo visto nella prima parte. È molto facile. Arrivo così alla riga numero 10. Io adesso comincio a lavorare sulla mia riga numero 10. Vado a fare sempre 4 più 1. Vado a lavorare una magliettina alta, due catenelle e un'altra magliettina alta. Magliettina alta, magliettina alta, catenella e magliettina alta e un'altra ancora. Proseguo in questa modalità per tutte le righe fino ad arrivare alla metà. Vi faccio vedere come andiamo a fare la parte in mezzo e questa cosa che vi mostro noi la ripetiamo fino alla riga numero 13, quindi attenzione. Qui nel mezzo vado a posizionare maglietta 1, maglietta 2, catenella, maglia alta, maglia alta, terza maglia alta, catenella, di nuovo maglia alta, ancora, sempre nella medesima magliettina sto lavorando, nel medesimo cerchio, un'altra maglia alta e poi ci spostiamo e ci attacchiamo come abbiamo fatto dall'altra parte, quindi subito magliettina alta lì dove ho la catenella della riga precedente, intorno, ok? E poi ricomincio il pattern al contrario, quindi cosa ho fatto? Praticamente nel mezzo sono andata ad aggiungere una magliettina alta in più per fare appunto l'effetto tondeggiante. Io ora continuo in questa maniera e faccio le mie righe tutte uguali fino alla riga numero 13. ultima parte dedicata alla fine della riga 10. Dobbiamo sempre eguagliare l'inizio in 4 catenelle, quindi sempre attenzione, maglia alta, doppia catenella, maglia alta, sempre per, insomma, finire, per fare come abbiamo fatto prima, perché il pattern deve combaciare. Unica parte è la parte finale, vado a fare una catenella, vado a fare una doppia maglia alta, vado ad infilarmi nella quarta magliettina, catenella, scusatemi, e vado a fare la maglia alta doppia. Perfetto. A questo punto continuo così fino alla riga numero 13. Vi faccio vedere un pezzettino d'inizio di 11 e poi andiamo avanti. E poi vado avanti. Fondamentalmente la riga 11 è uguale alla riga numero 7. E da questa sezione in poi noi ripetiamo le medesime parti in sequenza e sempre insieme. Come la riga 5 è uguale alla 9, la 7 è uguale alla 11. Comincio sempre in 4 più 1 magliettina alta doppia alta, catenella, doppia alta. ci vediamo alla riga numero 13. Allora, io sono arrivata qui, sono arrivata alla mia riga numero 13. Come vi avevo anticipato prima, andiamo tranquillamente a continuare con le ultime righe della 10 alla 13. Io continuo sempre con il medesimo pattern che vi avevo mostrato e adesso l'unica parte che ci rimane è la parte quella un po' più densa, un po' più spessa di magliettine. Noi qui abbiamo insomma questo pattern un po' libero, abbiamo sviluppato queste righe un po' più libere, un po' più spaziose, un po' più bucherellate, vogliamo dire così, e poi io ricomincio praticamente da capo. Io sono andata a fare sempre 4 più 1 io qui ho la mia parte della magliettina precedente con le mie due magliettine alte vado a far combaciare una maglia alta esattamente sopra le due magliettine alte della riga precedente ne faccio passare una sotto dove ho la catenella e poi rientro dentro la magliettina quindi qual è l'unica differenza? Ovviamente quando vado a lavorare sulla magliettina alta fatta della riga precedente devo passare all'interno invece poi quando ho la catenella passo direttamente sotto la catenella qui dove ho i ponticelli vedete? Ovviamente la parte delle catenelle la faccio sempre in corrispondenza del medesimo conto come si può dire quindi quindi che succede? Se qui ne ho due intorno ne vado a fare due esattamente e poi mi sposto e ovviamente dove ho la magliettina alta sempre nella riga sotto entro sempre all'interno della catenella e questa è una cosa molto molto importante ad esempio lì finirò per attaccare tre magliettine alte in quella parte dove avevamo visto la concatenazione maglia bassa maglia alta e scusatemi maglia alta catenella maglia alta ho tagliato con il video e sono arrivata direttamente al centro al centro della mia creazione ok? così andiamo a vedere come ci muoviamo per quanto riguarda la parte in mezzo giustamente qui dove ho la magliettina alta mi infilo all'interno della catenella e faccio la maglia alta qui ho lo spazietto delle mie magliettine alte quindi vado a fare direttamente la maglia alta intorno a entrambe perché sono due catenelle quindi due maglie alte attaccate e qui mi trovo un'altra magliettina alta ci lavoro all'interno nel senso che passo attraverso la catenella andiamo avanti ancora magliettina alta catenella magliettina alta piccola particolarità per la parte in mezzo maglia alta e di nuovo maglia alta quindi che cosa succede l'unica differenza che noi abbiamo trovato in tutta la parte qui in tutta l'ultima riga che abbiamo fatto è che esattamente al centro io vado ad aggiungere una catenella è l'unica catenella che vado ad incontrare all'interno di questa riga perché come potete vedere io qui sto soledunicamente facendo magliettine alte quindi l'unica catenella è perfettamente nella parte in mezzo della nostra riga numero 13 a questo punto continuo sempre così come vi ho mostrato finora vado a fare il tutto molto spesso facciamo sempre attenzione a quando dobbiamo stare intorno e quando dobbiamo passare dentro e poi si ricomincia ok l'unica cosa che vi voglio far vedere è la parte numero 13 prima di passare alla prossima riga la parte numero 13 la fine della parte numero 13 io qui ho la mia penultima magliettina alta vedete sempre collegata con l'altra magliettina alta sotto perché insomma l'abbiamo detto da tutta la riga ma lo ripetiamo ancora se serve qui dove ho le mie catenelle vado ad attaccare la maglia alta qui attenzione è un'altra catenella dove passo nella numero 4 è un'altra catenella dove io passo attraverso e non intorno lo faccio per due volte vado a fare gettato doppio e vado a fare la maglia alta doppia qui ed è così che termino la mia riga numero 13 adesso che cosa succede che io qui ho tutte le righe tutti gli strumenti per continuare il mio lavoro e da qui noi ripartiamo dalla riga numero 4 ok da qui il conto riparte dalla riga numero 4 che come potete vedere è un'altra riga spessa e ve la faccio vedere sistemata e completa qui vedete qua noi siamo arrivati qui dopo c'è nuovamente una riga numero 4 e poi dalla 4 in poi continuiamo sempre così fondamentalmente che cosa succede che qui nel mezzo noi troviamo sempre il medesimo pattern che consiste nella concatenazione tra due maglie alte una catenella due maglie alte e poi una maglia alta due catenelle e una maglia alta quindi non vi potete sbagliare l'unica parte dove bisogna fare un pochettino attenzione è la parte in mezzo quindi semmai quando vi manca qualche pezzetto andate a controllare le parti in mezzo che ho fatto e poi si prosegue fino a fine gomitolo io qui ho fatto questo bordino con gli angolini un po' frufru molto molto carini però non li mostro all'interno di questo video qui quindi fondamentalmente voi vi andate a prendere la sciarpa triangolare e liscia e normale in questo video non con le cosettine frufru però insomma il pattern si vede quindi che cosa vi dico controllate sempre l'inizio 4 catenelle più una controllate il mezzo fate attenzione a quando c'è la maglia alta doppia e mezzo o quando c'è la singola catenella in mezzo e poi mi raccomando sempre per la parte finale controllare di inserirvi sempre nella quarta riga prima della fine e di fare la doppia maglia alta io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse vi invito a lasciare un like a lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici noi ci vediamo molto presto ciao